Ed ecco qua è arrivato un pacco oggi per Federica e Francesco Oh sì, domongiore! Un pacco, che cos'è? Dov'è il biglietto? Fammi vedere papà, il biglietto è scritto Francesca e Federica Sì, Francesca e Federica Dov'è? È qua Lì è Ma veramente, eh? Non è uno scherzo, non l'abbiamo fatto apposta Voglio questo Dai papà ci aiuta ad aprirlo C'è il nostro cane, Bulli in versione, anche questa versione io È una cane Aprete voi, dai, aiutate papà, dai Mettiamolo sul divano papà Mettila sul divano Madonna mia! Cosa c'è dentro? È cioccolata! È cioccolata! È cioccolata! È cioccolata! Eh, ma troppa roba! Ci sono anche due lettere Eh, ma che bello! Guardate, questi, dateli i cani che giocano Dateli i cani Ma che belli questi riccioli di polestirolo Sono quelli che mi piacciono di più Eh, io mi mangio il coniglio! Dai, ho capito chi è stato Ringraziate la vostra cugina in diretta Grazie cugina! Grazie cugina! Eh, un uovo, dove lo porti? Andiamo al suo Dai Dai, c'è il mio uovino! Ringraziate, guarda che belle uova! Guarda che belle! Ti amiamo! No, non c'è la cioccolata, eh! Zingari! No, vi vogliamo bene davvero Vi vogliono bene davvero Sia la tua cugina e lo zio anche, eh! Grazie a tutti! Ho fatto il video in diretta così Vi possono vedere su YouTube, eh! E vedere Non esagerate, però dobbiamo ancora pranzare, ragazzi! Io pranzo con questo! Anche io! Buono, eh! Buono, eh! Vabbè, per me niente, però Ma scusa! E per me? Oh! Zio, non mi ha niente! Donatella, non mi ha niente! Vabbè, oh, Donatella, quante ce ne sono di Donatelle? C'è la privacy lo stesso! No, ma è troppo! Io sono sempre a dieta! No, io mangio le vostre! Un pezzettino, no, no, niente! Guarda, ma che bello! Questa è di Lady Bugs E Frenchy è del Seven! La sorpresa da ragazzino! Grazie, grazie! Gentilissimi! Ci sono anche le lettere Che dopo le apriamo in privato, naturalmente Non dentro al nostro canale Che è una cosa di privacy, è vero? È vero, è vero o no? Sì! Ti lo tigio la mano che ci vede di Sederone! Ok? Vabbè! Ciao! Salutiamo i nostri amici del canale Speriamo che anche voi ricevete Queste sono le prime uova che abbiamo ricevuto No, le seconde! E, seconda, ti ricordi? Le prime ci sono fatte Le prime non esistono più Le prime sono andate via Sono state mangiate Però, dai E papà cosa li prendiamo? Io mi chiamo Bluestar Ciao, ciao Donna Ciao, ciao Mario Ciao zio Grazie Grazie Super carichetta Ciao!